Al momento il tratto di pista ciclabile somiglia più ad un sentiero immerso in una giungla di vegetazione selvaggia ma intanto torna perlomeno ad essere percorribile. Dopo anni di interruzione torna infatti ad essere collegato il tratto di Bicipolitana sul Foglia nel tratto compreso tra il Ponte Vecchio e Via Gradara. A inizio luglio le nostre telecamere sollecitate dalle segnalazioni di voi telespettatori avevano infatti ricordato questo blocco perdurante che mutilava l'unione ciclabile fra centro e periferia causato anche dal cantiere tuttora in fase di stallo per il completamento del nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia. Un cantiere che non è ancora ripartito ma intanto come preannunciato dall'assessore Riccardo Pozzi si è provveduto perlomeno ad un intervento temporaneo che ripristinasse il percorso. Sono infatti sparite le transenne che erano presenti su Via Gradara così come quella all'intersezione fra Via Spoleto e il sentiero Laudato Si. A giorni si dovrebbe anche completare il ripristino con le necessarie potature. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.